Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Vedete, come altri sicuramente, anch'io sono stato minacciato. Sono stato minacciato da YouTube, che se continuo a parlare delle morti misteriose, se continuo a giustificare in qualche maniera la guerra in Ucraina, mi verrà chiuso il canale YouTube. Apro una parentesi. Se questo dovesse succedere, e qualcuno di voi ha voglia di continuare a seguirmi, io tempo fa ho aperto un canale su Telegram, sempre Dario Orgoglio Italiano, che uso pochino, uso, metto ogni tanto video, che vedete anche qui, ho iniziato a metterli anche dall'altra parte. Per ora sono circa 800 gli iscritti, ma semplicemente ve lo voglio dire per chi poi improvvisamente non si trovasse più il canale, e quindi ha voglia di continuare a seguirmi. Ecco, io caratterialmente non ci sto a farmi minacciare, perché credo che la libertà sia la cosa più importante, come abbiamo detto tantissime altre volte, e quindi anche oggi lo faccio raramente, ma non per i motivi che vi ho appena descritto, per il fatto che vengo minacciato, e per il timore che si chiuda il canale, ma semplicemente perché ne dovrei parlare tutti i giorni, e dovrei avere un canale apposito per questo. Qualcuno lo ha fatto, giustamente secondo me, e ha fatto molto bene, per il momento riesce ancora a resistere. Io credo che poi l'importante è cercare di tutelarsi, chiaramente utilizzando un certo tipo di linguaggio, perché non è che adesso YouTube la può fare così da padrone al 100%, quando vengono mosse, soprattutto certe accuse, poi bisogna anche, eventualmente in sede civile o penale, saper rispondere. Quello che sicuramente loro possono fare, chiudere i vari canali quando hanno voglia. E oggi vi voglio parlare, ancora una volta, di morti improvvise. Ma perché lo facciamo molto spesso di personaggi noti? Lo facciamo perché sono quelli che ci fanno capire che nessuno è risparmiato. Poi tutti noi, e io ve l'ho raccontato più volte, hanno intorno a sé, tra amicizie, conoscenze, parenti, ho per sentito dire, hanno raccolto storie di persone appunto molto giovani che hanno improvvisamente perso la vita. Io ribadisco un concetto che ho sempre ribadito e quindi in questo momento mi rivolgo anche ai signori di YouTube. Io non affermo nulla, io non affermo nulla. Io dico un'altra cosa. Io dico vogliamo iniziare ad occuparcene? Vogliamo iniziare a parlarne? Vogliamo iniziare ad aprire dei dibattiti e soprattutto a capire cosa sta succedendo perché i dati e questi sì che li posso dimostrare e l'ho dimostrato più volte ci dicono che sono numeri anomali. Ecco, semplicemente questo chiedo io. Io, ad esempio, dietro la morte di Giacomo Atmosfera, uno, diciamo, dei personaggi più conosciuti, dei personaggi di strada più conosciuti, lui operava ultimamente soprattutto a Milano ma ha girato tutto il mondo e così amava raccontare che il suo palcoscenico erano le piazze perché era il palcoscenico naturale. Un ragazzo di 37 anni che aveva deciso qualche anno fa di stabilirsi a Milano perché gli è nato un figlio, Ettore, di tre anni che lui così amava definire il suo più grande capolavoro. Era un artista di strada e stato trovato morto in strada. Ora, l'unica cosa che io vi posso dire per quello che ho potuto leggere che non era una persona che, almeno così, da quello che si sa, soffrisse di particolari patologie o, ancora peggio, faceva magari uso di sostanze. Ci sarà un'autopsia ed è di tutta evidenza che se venisse fuori una qualsiasi ragione io sarò il primo a darvela questa, a dirvela questa ragione. Però sembrerebbe che ci sono appunto molte possibilità che sia morto di un malore improvviso e quando si parla di malore improvviso in questi casi è di natura cardiocircolatorio, diciamocelo, infarto. 48 ore prima era morto Pellapazzo, un tiktoker, anzi uno dei più famosi tiktoker in circolazione. Anche lui, molto giovane, quarantenne. Come vedete, continuano, continuano a morire giovanissimi, perché 40, 37 anni si è giovanissimi. E io sono felicissimo se ci sono le autopsie, io sono felicissimo se ci danno delle risposte. Quello che è inaccettabile fare finta di nulla. E queste informazioni, molto spesso, non sempre, perché voi sapete, io non voglio fare di tutto un ervo, un fascio, e voglio dire che tutti i media voltano le spalle e non ne parlano. C'è qualcuno che sta affrontando il tema. Purtroppo, ancora molto, molto pochi. Niente dovrebbe esserci un certo allarme. Un certo allarme, ripeto, molto spesso tutto questo passa sotto silenzio. Vi terrò aggiornati. sta di fatto che, ripeto, muore ancora una volta, così improvvisamente, in questo caso, in strada, Giacomo Atmosfera, un giovane, 37 anni, che era uno dei più grandi artisti di strada. Con questo io vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi. che era uno dei più grandi artisti di strada.